Prima e professionisti, fine in fondo! 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 Prima e professionisti! Prima e professionisti, fine in fondo! Grazie a tutti. Guarda c'è una cascata. Spettacolo. Quasi. Aiuto. No, stai lì perché tanto è... C'è giù gli alberi, hanno buttato giù i legni. Quindi stai lì. Abbiamo buttato giù tutti i noccioli e cose, quindi. Abbiamo buttato giù le piante. No, a fare. Torniamo sul sentiero perché hanno visto che è franato tutto. No, no, torniamo.